Musica Allora, questa conferenza stampa parla della pietra filosofale, che cosa c'è da dire? Beh, la pietra filosofale è un grande mito, può essere interpretata in tantissimi modi, noi cerchiamo di interpretarla nel modo che è più vicino a quelli che sono gli insegnamenti che portiamo avanti. Alla fine della conversazione che ci sarà sulla pietra filosofale, spero che sarà ben chiaro che la vera pietra filosofale è dentro ciascuno di noi e si chiama amore. È molto interessante quello che lei sta dicendo e vorrei capire un attimo questa pratica, questa praning healing, che cos'è? Beh, il praning healing è una disciplina energetica, di sintesi tutto sommato, perché diciamo che è un po' un insieme di tutte quante quelle che sono le tecniche di guarigione, autoguarigione energetica che ci sono in giro. Non è una medicina alternativa assolutamente, è una tecnica anzi complementare alle medicine ufficiali, viene già utilizzata con degli eccellenti risultati specialmente negli Stati Uniti e nell'America Latina, oltre che ovviamente in Oriente, c'è quindi India, Malesia, Filippina, eccetera. Da parecchi anni stiamo cercando di diffonderla anche qui in Occidente, diciamo in Europa, dove forse è il posto un po' più difficile, per tutta una serie di motivi. Siamo una società molto anziana tutto sommato, però devo dire che si sta diffondendo abbastanza rapidamente, è un po' in tutti i paesi europei, i due paesi dove forse ce n'è di più sono proprio l'Italia e la Germania, anche se la Germania forse è un tantino avanti a noi. Tutte le persone che si approcciano a questa disciplina stanno ricevendo grandissimi benefici, perché si va a lavorare su quello che è il nostro naturale equilibrio psicofisico. Sì, il planning healing parte dal presupposto che siamo stati creati con un processo di autoguarigione. D'altro canto basta osservarsi, le ferite si rimarginano, le ossa si saldano, i dolorini passano, anche se non prendiamo dei farmaci. Ma che questo processo di autoguarigione purtroppo molto spesso viene bloccato dalle vicende della vita, diciamo così. In realtà sono principalmente i nostri... Una mancanza di consapevolezza di quello che noi siamo. Esattamente, è un problema principalmente di consapevolezza, perché lo scopo di tutte queste discipline che comunque tendono verso lo spirituale è proprio quello di sviluppare la consapevolezza. Senza consapevolezza non ci può essere crescita spirituale. Ma questo è in contrasto con la fede cristiana, la fede italiana? Assolutamente no. Assolutamente no, perché il planning healing intanto nasce addirittura in un convento cattolico. La sua meditazione principale è basata sulla preghiera semplice di San Francesco d'Assisi. Cerca di portare avanti quelli che sono i principi più importanti del Vangelo. Per esempio, la nostra pratica più profonda, quella lì che cerchiamo di diffondere di più, è quella del perdono, che poi è l'insegnamento che il Signore Gesù ci è venuto a dare duemila anni fa. E' praticata in tutto il mondo, quindi è praticata da cristiani, cattolici, cristiani ortodossi. Io personalmente l'ho diffusa in Grecia dove avevo a che fare con cristiani ortodossi e non ho avuto nessuna difficoltà. E' praticata da molti islamici, è praticata da buddhisti, è praticata da hindù, è praticata un po' da tutti. Quindi non è un problema. Il maestro Choa ci diceva sempre che la spiritualità non può andare mai in contrasto con nessuna religione. Semmai può spingere il praticante a comprendere meglio la religione, la propria religione, e quindi poterla praticare nel migliore dei modi. Visto che dentro di noi c'è questa scintilla divina, può essere questa la partenza per cominciare a capire chi siamo e soprattutto come curarci, autoguarirci? Beh, il concetto è molto semplice. Partiamo dalla parola yoga. Yoga significa unione. Ora, unione di cosa? L'unione che dobbiamo raggiungere è quella tra noi, che siamo qui incarnati, e ciò che c'è più in alto di noi, ossia la nostra anima superiore e la nostra scintilla divina. E' ovvio che se noi raggiungiamo quest'unione, la guarigione del corpo è una conseguenza quasi automatica. Dico quasi, perché poi c'è da fare i conti con quelle che sono le leggi del creato. Come diceva Sant'Agostino, non esistono i miracoli col Pranic Healing, non facciamo miracoli. Anche se il libro del maestro Cioa, che è stato scritto nel 1987, la prima edizione, ora si chiama Miracoli con il Pranic Healing. Miracoli nel senso che, come diceva lui, le persone comuni non si rendono conto che non esistono miracoli, che nulla può essere realizzato in contrasto con le leggi divine, che poi era quello che diceva Sant'Agostino. Quindi diciamo che facciamo parte dell'uno e siccome facciamo parte dell'uno, dovremmo anche essere in sintonia con tutto quello che ci circonda. Esattamente. È un problema anche di armonia, userei la parola armonia, che è ancora più profonda. Un'armonia che però può nascere solo dalla consapevolezza. Torniamo dal discorso di prima. Capire chi siamo, capire perché siamo qui. Ecco, il maestro Cioa ci ha dato tantissimi corsi. Io sono un istruttore senior, insegno tanti dei suoi corsi. E uno di questi corsi si chiama appunto Raggiungere l'unione con l'anima superiore. È un bellissimo corso che spiega in maniera occidentale, quindi con un approccio più scientifico, quelli che sono i principi dello yoga, appunto per capire in che modo noi possiamo accelerare questo processo di unificazione con il nostro divino, che in ogni caso ciascuno di noi prima o poi dovrà raggiungere. Come possiamo definire questo percorso e quali sono le tappe fondamentali? Allora, il percorso del planning healing è diviso in corsi, normalmente sono della durata di un fine settimana. Al momento ci sono cinque livelli insegnati, quindi si può progredire gradatamente in base appunto alle proprie disponibilità, alle proprie propensioni. Non tutti noi siamo uguali, ovviamente ognuno deve andare necessariamente alla propria velocità e collateralmente a questo ovviamente poi c'è la possibilità di intraprendere una pratica spirituale del maestro che si chiama aratik yoga, ossia lo yoga verso la santità. Arat significa santo in sanscrito. Che significa questo percorso verso la santità? Beh, significa semplicemente andare a ricercare la scintilla divina dentro di noi, né più né meno, ossia riunificarci con la fonte dalla quale noi siamo provenuti. A Crotone com'è possibile mettere in campo questa pratica e avviare questo percorso? Perché non dovrebbe essere possibile a Crotone? Crotone è una città che ha delle tradizioni fantastiche, no? Basta citare solo Pitagora, che era veramente un grande maestro, un grande illuminato. Non esiste un posto nel mondo dove non si possa fare. Proprio perché abbiamo all'interno degli insegnamenti del maestro la vera pietra filosofale, l'amore. Tutto l'insegnamento, tutto il pranichiling, tutta la ratik yoga, tutte le altre discipline. Il maestro ci insegnava anche come fare i soldi. Lui era un uomo d'affari, era un grande industriale, faceva mille cose, ha fatto mille cose nella sua vita. Bene, il segreto è l'amore. La chiave di tutto è l'approccio con amorevole gentilezza. Ed ecco perché la guarigione è possibile attraverso il pranichiling, perché ogni forma di guarigione non dovrebbe mai prescindere da un approccio d'amore, da un gesto di amore che il guaritore ha nei confronti della persona che vuole guarire. Per quanto riguarda i soldi, l'economia, che c'entra l'amore per fare soldi? L'amore riguarda anche l'economia. Il concetto è che i soldi esistono. Viviamo in una società nella quale non si può fare a meno dei soldi. Bisogna fare sempre i conti con i soldi. Ma i soldi sottostanno anche loro alle leggi divine. Non è una cosa che esula dal concetto. Il concetto di pensare che i soldi siano una cosa dannata è una cosa assolutamente sbagliata. È l'uso che si fa dei soldi che può essere giusto o sbagliato. Ora, cosa è preferibile? Che i soldi li abbia qualcuno che ne farà un ottimo uso o qualcuno che ne farà un pessimo uso? Ora, se una persona è riuscita a sviluppare in sé l'amorevole gentilezza nei confronti di tutto ciò che lo circonda e l'armonia con tutto ciò che lo circonda, sicuramente farà dei soldi un buon uso. E quindi è giusto che possa avere delle conoscenze che lo potranno portare anche ad averne di più. Quindi quando noi diciamo che Dio è amore, diciamo che in realtà dobbiamo scoprire proprio questo sentimento. Esattamente sì. Anche perché cosa significa amore? Amore significa dare. Amore significa provvedere agli altri. E questo spesso, in questa nostra società, deve essere fatto anche col denaro. Tanto per tornare al discorso di prima. Ma non solo, ovviamente. L'amore deve esistere a livello materiale, deve esistere a livello delle emozioni. Ovviamente, perché è un'emozione fondamentalmente, ma è qualcosa di molto di più. Deve esistere a livello dell'anima, a livello dello spirito. Dove troviamo il vero amore. Che è l'amore che non chiede niente in cambio. È l'amore incondizionato. È l'amore divino. Ovviamente questo è un percorso. Non è che si raggiunge in un attimo, no? Però, ecco, tendere a lì significa già cambiare la propria vita. Cominciare a rendersi conto meglio ed aumentare appunto il livello di consapevolezza e di armonia. Cominciare a rendersi conto meglio ed è la propria vita. Grazie a tutti.